Sono momenti davvero frenetici, quelli riguardanti il futuro di Arcelor Mittal, il futuro dell'ex Ilva, il futuro di Taranto. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, di USB. Gli eventi si succedono di minuto in minuto. Voi ieri avete avuto un incontro al MISE, quindi vogliamo intanto sapere un po' come è andata, quali sono state le impressioni. E poi mi stupiscono certe posizioni sindacali. Vedi quella della FIM completamente appiattita rispetto ad Arcelor Mittal. Sono gli scudieri dello scudo penale. Sì, la situazione è molto complicata. Noi siamo rientrati da Roma ieri sera dopo aver avuto l'incontro con il ministro Patuanelli, che aveva tra l'altro anticipato alcune cose e aveva detto chiaramente che riteneva la posizione di Arcelor Mittal una posizione viziata all'origine. Lui ha fatto un ragionamento abbastanza complesso, però con alcuni dati di fatto, alcune cose le ha chieste a noi tra l'altro. E alla fine dice io penso che la posizione di Mittal sia strumentale, perché ancora prima del problema dello scudo penale Mittal già poneva al governo problemi rispetto alla produttività del sito di Taranto e al numero di dipendenti occupati previsti all'interno del piano industriale. Quindi detto ciò il ministro ha ribadito che secondo loro quella di Mittal la scusa che ha usato in realtà era solamente una scusa perché tentava di rilanciare per ottenere probabilmente un accordo migliore con uno sconto sul canale di affitto, su quant'altro, sul numero dei dipendenti. Licenza di tagliare? O comunque, male che vada, comunque va via perché nei fatti poi comunque ne esce vincitore da sta storia, ne esce vincitore anche e soprattutto perché è entrata, ha acquisito il portafoglio clienti di Ilva di Taranto ed oggi come dire saluta dicendo, paventando perdite di milioni di euro che sono tutte da dimostrare, anche là a Padonelli ieri ho detto una cosa semplicissima, ho detto poi qualcuno mi deve spiegare come è possibile che con 11 mila dipendenti e tre commissari che di acciaio non ne capivano nulla, perdevano 20 milioni al mese e Arcelor Mitt, il primo produttore di acciaio a livello mondiale, quello che ha la capacità di influire anche sui mercati, con 3 mila persone in meno produce 50 milioni di euro di perdite, 30 milioni di euro di perdite in più al mese, vabbè poi queste perdite so da valutare perché fino all'altra mattina erano 50 milioni al mese, ieri ho sentito che sono 2 milioni e mezzo al giorno, fra poco come dire arriveremo all'inverosimile, il paradosso però qual è? Che delle promesse che ha fatto Arcelor Mitt, noi abbiamo detto al Ministro sfidiamo chiunque a dire dove hanno speso un centesimo dei famosi 4 miliardi e 2 che, non voglio essere offensivo, non lo sarò, quel personaggio pittoresco di Calenda, colui che poi dovrebbe stare zitto semplicemente perché ha prodotto questa situazione sponsorizzando in lungo e largo Arcelor Mitt firmando un contratto indecente, continua a ribadire perché continua a dire che stiamo perdendo un investitore da 4,2 miliardi di euro, allora rilancio, se vale quello che si dice e non quello che si mette in campo, io investo 6 miliardi, l'importante che Calenda da domani incomincia a dire che stiamo perdendo Franco Rizzo che investe 6 miliardi di euro perché nei fatti a distanza di un anno Arcelor Mitt alla Taranto non ha investito un centesimo e l'abbiamo detto anche parlando soprattutto della vita quotidiana, siamo arrivati al punto che abbiamo fatto 10 mila comunicati per le tute, cioè i dipendenti oggi, la stragrande maggioranza dei dipendenti hanno ancora le tute, ilva, mancano i caschi, mancano i dpi, c'è una condizione che non è Ho notato un aspetto che mi ha, come Tarantino, mi ha molto ferito, tutti le varie sigle sindacali tranne ovviamente la vostra, i partiti politici, i media, hanno pensato solamente alla problematica occupazionale, quella ambientale è un addendum, è un qualcosa in più, non a rilievo, l'importante è salvare l'occupazione, che poi ci sia uno stabilimento che sta crollando a pezzi con rischi enormi per i lavoratori, che i dati di emissioni raggiungano cifre stratosferiche, quello è secondario, l'importante è salvaguardare l'occupazione, ma questo da parte di tutti è una delle cose che abbiamo denunciato ieri a Paduanelli, anzi è stata la prima cosa che abbiamo detto che è vergognoso quello che sta accadendo dal punto di vista dell'informazione un'informazione deviata e fuoriviante che disegna una situazione di Taranto diversa rispetto a quella reale il dramma di Taranto sono l'inquinamento, le morti e le malattie a causa delle grandi industrie vecchie ed obsolete, ed è chiaro che la discussione sembra che si sia soffermata solamente lì dove Metta vuole che si concentri sulla questione dei posti di lavoro, a prescindere, non è possibile non siamo nella condizione di reggere, lo dico in tutta onestà, così come l'avevamo detto al Ministro noi non avevamo la posizione di chiudere la fabbrica, Arsolo aveva avuto una chance, se l'è giocata siamo fuori tempo massimo, stop, non si ragiona più, qui ora la politica o la politica prende come dire di petto la situazione e fa la politica, quindi trova le soluzioni che non possono essere quelle di continuiamo a lavorare in queste condizioni e vediamo che succede, perché sappiamo tutti che succede. Si è risvegliato anche Renzi il quale dice se dovesse saltare Arsolo Mittal tranquilli c'è già pronta la nuova cordata e quindi potrebbe essere di nuovo Gindal, Cassa Depositi e Prestiti e quant'altro. Al netto del fatto che poi a un certo punto mi verrebbe da dire, allora a sto punto dite a Calenda perché non ha permesso di fare il rilancio all'epoca, perché anche qua se facciamo un ragionamento mettendo un attimo da parte le questioni ambientali, se dobbiamo ragionare sul secondo che arriva, stiamo riproponendo uno schema che in Italia ha già prodotto risultati negativi e sai che cosa prevede questo schema? Che chi arriva viene a dire sì io ti salvo, ma la canzone, la filastrocca è la stessa di Arsolo Mittal dell'anno scorso, siete troppi, costate tanto e bla bla bla, allora il problema è un altro. La politica, faccia la politica, oggi di fronte abbiamo un'occasione, un'opportunità, non deve spaventare il fatto che rinunciare al pezzo a caldo di quello stabilimento equivale a dire Taranto muore, anzi così come ho detto ai lustri personaggi e anche al Ministro può essere un'occasione di rilancio per Taranto, anzi al Ministro ho detto esplicitamente, gli ho detto perché non facciamo a Taranto quello che abbiamo fatto a Genova e quello che state facendo a Trieste, perché altrimenti ho detto al Ministro, chi dice che a Taranto veniamo trattati in maniera differente, che siamo cittadini di serie B, rischia anche di aver ragione, mi conforta il fatto che lui dice io non sono contro questa ipotesi, lui però lega quell'ipotesi e questo mi trova d'accordo perché io lo chiarisco, su cosa, ecco l'operazione di chiusura come la facciamo, programmata, ci sediamo, ci mettiamo d'accordo così come hanno fatto a Genova e arriviamo ad una chiusura mettendo in sicurezza i lavoratori, la chiarisco questa cosa perché anche oggi nel discutere con alcuni soggetti, chiusura domani mattina, guardate che se dobbiamo fare un aggiornamento di responsabilità dobbiamo partire da un fatto, abbiamo il dramma della salute ma abbiamo anche migliaia di posti di lavoro, ILVA e appalto, un conto è ragionarsi, sedere, trovare le soluzioni e chiodere in maniera programmata, un altro è aspettare che accada, perché attenzione, l'abbiamo detto ieri al Ministro, la chiusura prima o poi avverrà e probabilmente non saremo manco noi a deciderlo, sarà Arcelor, Mittal, se si passa questa fase magari fra un anno, un anno e mezzo ci trovano le stesse condizioni per una serie di ragioni, uno perché l'impianto è vecchio, due perché non è conveniente, tre perché nell'intenzione di Arcelor, Mittal non c'è quella di venire qui a spendere miliardi quando può tranquillamente produrre nei paesi del terzo mondo dove le regole non ci stanno e può fare quello che vuole, rendiamoci conto che arrivare però ad una chiusura programmata da Arcelor, Mittal o da altri soggetti, che non siano le parti sociali e il governo, ci espone al rischio che si arrivi ad un dramma sociale, quindi oggi lo rimandiamo ma fra poco ce ne ritroviamo, quindi programmiamo un attimo prima, sediamoci, ragioniamo, troviamo la soluzione, secondo me se c'è la volontà politica tutto si può fare. Rizzo, intanto ho notato, riprendendo il discorso di prima, che la FIM ha annunciato lo sciopero, bisogna vedere quanti saranno e la preoccupazione della FIM sembra, anzi è la difesa dello scudo penale, cioè è assurdo questa logica completamente appiattita e asservita rispetto ad Arcelor, Mittal, rispetto al padrone, cioè la logica della FIM è quella di non far arrabbiare il padrone perché sennò il padrone perde la pazienza e si va via. Penso che la FIM sia rimasta arretrata nel Medioevo dei diritti. Vavo, io devo proprio rispondere. Io ho esternato questa posizione, evitiamo, però voglio dire, al giorno d'oggi, con piacere il padrone, per il timore che il padrone prenda baracca e burattini e vada via, mi sembra veramente tornare, cioè qualcosa come se lo statuto dei lavoratori non sia mai esistito. C'è da pensare una cosa, noi abbiamo fatto una programmazione di sciopero con 10 giorni di preavviso alla fine di giugno e siamo arrivati al 9 luglio con un delegato licenziato perché non avrebbe rispettato i principi della sicurezza, questo ce l'ha raccontato, questa base elettrica ce l'ha raccontato quei quattro cialtroni di Arcelor, Mittal, è un'organizzazione che dichiara lo sciopero e dopo 5 minuti la sta facendo, sta esponendo al rischio di licenziamento quante centinaia di dipendenti, perché io non voglio credere che oggi, come dire, anche perché le comandate sono uscite paradossalmente quasi dopo lo sciopero, ma ci sta un altro problema, tu indici uno sciopero nel momento in cui stai chiedendo tra l'altro il ripristino dello scudo penale, il dipendente che dovrebbe eventualmente partecipare, però anche qua dai numeri Sembra un flop? Sì, praticamente non vi ha derito nessuno, poi loro racconteranno che hanno fermato tutto il mondo perché sono abituati a fare questo, però i numeri, da quanto mi dicono in fabbrica, alcune impianti erano già fermi perché c'erano fermate e programmate, altri come diranno, ma poi il paradosso sarebbe che gli stessi lavoratori che hanno compilato il questionario una settimana fa dicendo che non sono d'accordo sullo scudo penale ad Arcelor Mittal, oggi invece stanno facendo sciopero in massa, come ci raccontano, perché vogliono lo scudo penale a Mittal. Cioè quindi i lavoratori vanno sotto il Palazzo Chici a pregare, dicono dai lo scudo penale al mio datore di lavoro perché lui deve lavorare tranquillo, perché se mi ammazza ha il diritto di non andare in galera e fammi dormire tranquillo, perché se non gli dai lo scudo penale io non dormo tranquillo. Cioè è assurdo questa cosa, siamo al paradosso più totale, poi non voglio perché se no mi comprometto si comincia a parlare. Comunque io lo preannuncio, voglio dirgliene quattro a Bentivogli, se mai verrà a Taranto, perché dirò la sua posizione completamente asservita al padrone, assumendomi le responsabilità di tutto quello che dico in ogni sede. Peccato che finora quei rile ancora non ne ho ricevute, le aspetto. E comunque Rizzo, concludendo questa chiacchierata, e se disegniamo questa ipotesi, a un certo punto Arcelor Mittal magari può aver fatto i suoi conti e può aver detto gli impianti sono obsoleti, ho la morsa della magistratura, me ne vado. Lo sapevano già prima, il problema è anche questo. Anche l'arrivo della Morselli è significativo rispetto a questa svolta. A me ha fatto piacere notare che il ministro a un certo punto ci chiedeva una serie di informazioni che poi gli servevano a capire, poi l'ho capito quando è uscito il posto. Allora, numero uno, smontato il fatto della perdita, perché lì poi a un certo punto o sono loro che non capiscono niente d'acciaio, sono i commissari che sono troppo intelligenti e avevano la capacità di perdere di meno con più persone. Numero due, gli impianti scrivono, dice guarda che ci hanno consegnato una condizione impiantistica differente rispetto a quello che ci hanno descritto. Anche qua è una sciocchezza, perché i capi che gestiscono quegli impianti sono gli stessi che gestivano gli impianti con il VNS. E loro, un anno prima di fare l'accordo famoso del 6 settembre, erano già in fabbrica in maniera perentoria tutti i giorni a verificare gli impianti. E loro, in sede ministeriale, hanno più volto dichiarati che gli impianti di Taranto erano in condizione ottimale. Quindi non è che vi possono venire a raccontare oggi le barzellette, perché a me sembra, e lo dico, che questi qua ci prendono in giro. Cioè prendono in giro la politica nazionale. Poi hanno capito che la stragrande maggioranza dei politici nostri non ci capisce un tubo. Io ho sentito alcune dichiarazioni come quella della Lega, Duragona. Questi parlano senza sapere nulla. O Calenda stesso. C'è Calenda che dice quelle frottole in televisione. Io a Taranto ci sono stato. Ma quando mai? Ma se tu metti i piedi a Taranto, sei venuto a presentare un libro, se tu metti i piedi a Taranto, secondo me, guarda, poi i parchi minerali te li faccio vedere io. Se vieni a Taranto, ti accompagno a vedere i parchi minerali e continuo a parlare di investitori da 4 miliardi e 2. Quindi parla gente che di Ilva non sa nulla, che si arrega il diritto di decidere sulla pelle dei tarantini, che non dice nulla quando si ammala un bambino di tumore o di leucemia, ma esce la lingua quando bisogna difendere la produttività e il pelle del paese. L'1,4 salta stronzata, colossale. Cioè noi pesiamo l'1,4 del PIL nazionale. Cioè Taranto praticamente pesa più di quanto pesano probabilmente città, come dire, del nord, che hanno situazioni produttive ben diverse da Taranto. Ma di che stiamo parlando? Ma ci vogliamo prendere in giro? Diciamo che, ecco, in nome della produttività di altre province, perché questa è la verità, come Genova, cioè a Genova i sindacati sono sul piede di guerra perché chiedono il ripristino dell'immunità penale e scrivono la frase latina, l'ostriscione famoso, no? Serva Pacta Sund, i patti si rispettano. Pacta Servanta Sund. Perfetto. Gli accordi. L'attore latina e greco, però purtroppo, come dici, sono passati tanti anni. C'ho qualche difficoltà. Ma mi viene da ridere, sai perché? Da ridere per non dire piangere. Quindi a Genova si dice, lo dice anche Toti, il governo non deve far scappare gli investitori, deve ripristinare lo scudo penale, e sì. E sulla salute dei tarantini è facile. No, tanto voi là il problema dell'aria a caldo ve lo siete risolto, però avete il problema che se chiude l'aria a caldo di Taranto voi non avete più il lavoro. Problemi vostri. Lo dico proprio così. Perché a Taranto non è più accettabile sacrificare una vita umana in cambio di che cosa? Perché il paradosso è pure questo, no? Non è un ragionamento accettabile. Io non lo condivido. Ma avrebbe avuto una logica di dire, beh, sai che c'è? Mi tengo un inquinamento, ma mi tengo pure tutti i posti di lavoro. Cioè qua siamo andati a finire che c'hai l'inquinamento, c'hai le malattie, c'hai le morti, e i posti di lavoro se li pappano pure gli altri. E no, cari. Mettiamo il punto, come dire, ragioniamo su altro, perché al Ministro abbiamo detto quello che avete fatto a Genova lo fate pure a Taranto. Programmate, noi ci siamo. Però mettete in campo un'azione politica vera, seria, perché dovete restituire a questa città una dignità o un futuro, perché anche qua è chiudo. Ma di che stiamo ragionando? Cioè di una fabbrica che è cotta e decotta, che probabilmente, come dire, fra qualche mese non ci sarà più a seguito, io spero mai, di qualche infortunio mortale gravissimo tipo Tessen Group, perché le condizioni della fabbrica lasciano presagire quello. e soprattutto ai nostri figli che cosa dovremmo lasciare noi. La scelta del ricatto? O lavori in quella fabbrica rischiando di ammalarti, oppure devi prendere il primo treno e andare via da Taranto. No, la politica ha l'obbligo di uscire dagli attributi e trovare le soluzioni. Taranto ha già dato, come dire, e deve essere risarcita. Poi le strade, ci sono centomila strade, io non faccio il politico. Però se uno mi dice, quali sono le soluzioni? Eh, quante ce ne sono soluzioni? Se la politica, ecco, una delle operazioni che potevano fare negli anni non l'hanno mai fatto, ma magari la ennescano adesso, è perché, come dire, non garantite a Taranto per i prossimi 5, 7, 10 anni, che sarebbe un tempo secondo me accettabile, una sorta di non taxaria su alcuni settori produttivi, in cui dite, guardate, chiunque viene ad investire un euro non pagherà un centesimo di tasse. Vediamo, arrivano gli investitori a Taranto. Cioè, se io devo aprire il negozio Y, l'attività industriale X, la apro a Taranto dove non pago un euro di tasse o vado in un'altra città in cui... E questa è la forma di risarcimento che Taranto deve avere. E lì il governo si deve sforzare, come dire, di metterle in campo. Grazie. Grazie.